carissimi ragazzi e ragazze in ascolto voi tutti gentili radioascoltatori di radio buon consiglio un santo pomeriggio a tutti ave maria e ben ritrovati sulle frequenze della nostra carissima radio siamo la puntata numero 51 del dono della divina volontà presumibilmente la penultima poi la settimana prossima ci diremo probabilmente anche alcune cose accessorie puntata anche questa come tutte quante molto importante e che è un po una sintesi che va un pochino a tirare un po di somme di tutto quello che siamo detti in questo lungo ciclo di catechesi lo abbiamo cercato di ho tentato di presentare questo bellissimo grandissimo e straordinario ecco dono che il signore ha voluto fare alla sua chiesa a tutti coloro che non hanno il cuore chiuso insomma per non accoglierlo che è il dono della divina volontà strada e via sicurissima di santità che ci portano soltanto nel cuore stesso della chiesa ma ai vertici più alti della santità per chi desidera davvero vivere una vita stupenda bella perché come abbiamo visto tante volte gesù promette a chi entra in questo regno divino perché è una vita divina insieme certamente alle grossi che non mancano mai in questo mondo dei suoi discepoli anche una vera e propria felicità terrestre ecco insieme alla felicità celeste quindi una vita davvero ecco divinamente felice simile a quella che hanno vissuto gesù e maria su questa terra che fu una vita come sappiamo completamente crucifissa ma anche una vita beata cioè questo basta leggere sant'ommaso d'aquino ecco per dirittura gesù dice sant'ommaso d'aquino anche in questa vita l'attenzione l'umanità santissima di gesù anche in questa vita godeva la visione beatifica è solo che appunto dice come è compatibile la visione beatifica con la sofferenza è compatibilissima perché fino a quando è stato in questo mondo assumendo la nostra vita mortale e anche la nostra condizione no la condizione dell'uomo decaduto ha assunto gesù pur essendo esente da macchia di peccato ha sofferto e come quindi la vita nella divina volontà è una vita bellissima e crucifissa se volessimo ecco deve definirla così no ecco è una vita mariana al cento per cento tante volte ho detto che il fiore della madonna il fiore che simboleggia la madonna sono due veramente i fiori che simboleggiano la madonna sono il giglio e la rosa e però proprio proprio la fiore mariano per antonomasio è la rosa dove viene il rosario con la rosa sui piedi è apparsa la madonna all'urdo come tutti sanno insomma quindi la madonna è indubbiamente chiamata rosa mistica dalla chiesa ecco la rosa il profumo più bello più profumato ma anche quello che c'ha tante spine ecco ed è una splendida diciamo così sintesi simbolica di questa vita ora la vita nella divina volontà sappiamo con certezza che fu la vita terrena di gesù di maria e fu la vita terrena fino a prima del peccato originale anche dei nostri progenitori abbiamo visto tante volte adesso non sto ripetendo anche se faccio un pochino di excursus la differenza che c'è tra il fare semplicemente la divina volontà e il vivere nella divina volontà lo vedremo riprendere questo stesso esempio da gesù anche nella nella pagina attuale perché la catechesi di oggi si può intitolare le disposizioni necessarie per ottenere il dono della divina volontà è ovvio che questo discorso più o meno ha c'ha sempre un pochettino tenuto compagnia no tante volte io ho avuto modo di evidenziare così anche la corretta interpretazione di certe frasi di gesù no che basta volerlo e tutto è fatto ci torneremo anche oggi no e quindi questo è il dono dei doni quindi come vedremo oggi gesù lo vuole dare ecco ma per riceverlo come tutti i grandi grazie di dio ci vogliono le dovute disposizioni e gesù stesso ci dirà quali sono ci spiegherà bene alcune cose un brano molto molto bello io sinceramente avrei voluto dedicare le ultime due puntate a due spaccati mariani degli iscritti pochi e sto perdono alla madonna perché essendomi di capitato tra le mani questo questo scritto dico no questo questo è proprio la penultima puntata del ciclo di catechesi perché cioè sono proprio diceva beh tutto bello non ha insomma in due parole vuoi facci capire che poi non è che devo far capire dono donato fa capire gli iscritti comunque che devo fa se voglio ricevere questa questa bella cosa e oggi dovremmo capire dovremmo avere questa informazione sintetica ecco nello stile un po di queste catechesi che vorrebbe essere sistematica io volevo anche dire insomma chi desidera continuare ad approfondire il dono della della dina volontà adesso questa è la penultima puntata ci sarà l'ultima la prossima settimana poi darò conferma la settimana prossima insomma perché le suore mi hanno accennato insomma che probabilmente io continuerò a lavorare con il buon consiglio probabilmente per un altro tipo di trasmissione per un altro diciamo così di target di di trasmissione ovviamente sempre catechetiche però siccome so che più di qualche persona desidera e diciamo continuare ad avere come dire una sorta di di alimento catechetico diciamo ordinario sistematico perché è diverso fare una meditazione sulla divina volontà che non fare una catechesi io sto già pensando e ci penserò bene insomma a trovare insomma un momento uno spazio magari poi da diffondere sui social per proseguire ecco questo questo discorso nel senso che queste 52 catechesi perché tali saranno spero che siano state quello che desiderano essere cioè una sintesi globale di quello che è il messaggio dato da gesù a luisa di quali sono le sue peculiarità le sue caratteristiche eccetera abbiamo visto anche un'antologia di brani scelti e poi se ferma diciamo termina diciamo la sua ragione d'essere sto pensando sicuramente la divina volontà non mancherà di ispirarmi a come quando in che forma dare eventualmente seguito a questo diciamo così filone catechetico ovviamente i miei amici i miei followers lo sapranno insomma basta semplicemente seguire le le pagine dei miei pubblici social networks per per essere aggiornati su questa cosa in ogni caso martedì prossimo ci vedremo certamente ancora su radio buon consiglio per chiudere questo ciclo detto questo passiamo adesso alla lettura se non lo facciamo in tempo perché il verono di oggi è abbastanza lungo è del 25 dicembre del 1925 volume 18 leggo non ho fatto quasi mai perché sapete i titoletti degli iscritti di luisa sono stati appiccicati sono stati comunque sintetizzati dai 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 redattori non sono suoi ecco di suoi era soltanto la data no però questo titoletto vedete come ci vogliono le disposizioni per possedere il dono del volere divino il vivere nel volere supremo la cosa più grande è il vivere vita divina e l'anima opera nell'unità della luce eterna è un bel titoletto insomma ed è veramente così adesso vedremo leggo e poi commento mano mano che arriviamo nei punti un po più caldi nevralgici salienti insomma di questo splendido scritto stavo pensando a ciò che sta detto sopra attenzione che la volontà di dio è un dono e perciò come dono si possiede come cosa propria attenzione questo è un passaggio una sfumatura fondamentalissima sentite che cosa cosa aggiunge invece chi fa la volontà di dio deve stare ai comandi deve domandare spesso spesso che cosa deve fare e che gli si impresti il dono non per essere padrone attenzione ai termini che usa è ma per fare la stessa azione che dio vuole finita la quale restituirle il dono che ha preso in prestito bellissimo quindi sta dicendo che chi vive nella divina volontà la possiede come se fosse il padrone e la possiede come cosa propria come dono stabile a differenza invece di chi fa volontà di dio che volta per volta secondo quello che sta facendo deve chiedere che vuoi che faccia quindi poi prendo in prestito la tua volontà la faccio e poi te la ridò per dirlo in due parole nella mia mente si facevano tante immagini similitudini tra chi vive nel volere divino e lo possiede come dono quindi riprende questa distinzione fondamentalissima e tra chi fa la santissima volontà di dio che non solo non possiede la pienezza del dono ecco alcune differenze ma se lo possiede lo possiede ad intervallo e ad imprestito ne di qualcuna di queste similitudini qui fa un po di belle similitudini luisa supponiamo che avessi una moneta d'oro che avesse la virtù di far assorgere quante monete io volessi ovviamente è un'immagine no o quanto mi potrei far ricca con questo dono invece un altro lo riceve in prestito questo dono per un'ora o per esplicare una situazione e restituirlo subito che differenza tra la mia ricchezza per il dono che possiedo e tra quella di chi lo riceve in prestito oppure se avessi avuto in dono una luce che non si smorsa mai sicché di notte di giorni sono al sicuro sempre il bene del vedere questa luce che nessuno mi può togliere si rende con me come attenzione al termine con naturale e mi dà il bene di conoscere il bene per farlo e il male per fuggirlo questa luce donata mi indono io mi schernisco di tutti attenzione al termine io mi schernisco di tutti del mondo del nemico delle mie passioni e fin di me stessa mi schernisco capito cioè m Carmo me ne ne faccio beffe il mondo tutti i suoi idoli non te calcolo proprio cioè che venissero tutti quanti i soldi che vuoi tutto quanto il potere successo che vuoi le donne che vuoi tutti tutti con tutti i piaceri che vuoi non d ecalcolo proprio il demonio si accomodi veda se riesce a entrare dentro questa fortezza divina vediamo le mie passioni provino a scatenarsi se ci riescono dopo che io ho il dono della divina volontà me stesso la nostra preoccupazione che abbiamo sempre di noi stessi, della nostra stima che gli altri pensino bene quest'altro, quell'altro cose del tutto indifferenti mi schernisco quindi questa luce è per me sorgente perenne di felicità vedete questa sorgente perenne di felicità cioè, ragazzi io ve l'ho sempre detto i primissimi giorni i primissimi tempi che vi dico queste cose cioè io quando sento dire sorgente perenne di felicità io impazzisco in senso positivo perché come diceva già il buon Aristotele l'avrò detto in qualche puntata la felicità su questo siamo tutti d'accordo se tu parli di qualunque essere umano dici cosa vorresti? che vuoi essere infelice? tutti gli uomini cercano la felicità vorrei sapere qualcuno che venga a casa mia e mi dica io l'ho trovata sono felice al 100% credo che raramente si incontri qualcuno del genere ma qui viene promessa la felicità terrena non solo la felicità ultraterrena quella la sappiamo qui dobbiamo tribolare dobbiamo soffrire dobbiamo sacrificarsi è una valle di lacrime poi andremo in paradiso che per carità chi ci crede a questo già è tanto ma qui c'è qualcosa di più questa luce è per me sorgente perenne di felicità è senza armi e mi difende cioè quando uno sta nati una volta non c'ha paura di niente di nessuno capito? chi mi tocca a me? è senza voce e mi insegna è una scuola continua quando si vive nella in continuazione è senza mani e piedi e dirige la mia via e si fa guida sicura per portarmi al cielo invece un altro quando sente bisogno deve andare a chiedere questa luce e dice ma accendi un attimo una lampadina e non la tieni a sua disposizione abituato a non guardare sempre insieme con la luce non possiede la conoscenza del bene e del male per esempio cioè quando una persona entra in questo mondo subito si accorge cioè il suo modo di fare discernimento cambia perché ha una chiarezza più grande sul bene e sul male che prima non c'era non c'era quindi chi non ha questa luce non possiede la conoscenza del bene e del male e non tiene neanche la forza sufficiente per fare il bene ed evitare il male non la tiene onde non possedendo la luce accesa e continuata in quanti inganni pericoli e vie strette non si trova che differenza tra chi la possiede come dono suo questa luce e tra chi la deve andare a chiedere quando ne ha bisogno cioè abbiamo capito quello che Dio vuole fare cioè questo cioè io questo lo chiamo il libro delle favole lo chiamo l'ho detto già altre volte cioè Gesù lo chiamano il libro di Cero non si deve offendere se io come dire preso da tanta gioia tanto questo è il libro delle favole questo qua capito questo è il libro delle favole questo qua cioè avere un dono stabile di questo genere averlo come cosa mia in alcune parti degli iscritti guardate che è bellissimo non ci ho detto qualcosa cioè quando uno c'è il dono della divinità se si affaccia e vede il creato attenzione questo non c'è non c'è se è scritto negli iscritti cioè li guarda e dice uh che bello è tutto mio questo qui e non dice soltanto è tutto mio perché Dio l'ha fatto per me quindi lo ricevo come dono ricambio con il mio ti amo per tutti ma perché nella divina volontà io partecipo delle opere stesse di Dio quindi è quasi come se l'avessi fatto a io quella roba lì quindi proprio mia 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 fatta io è ovvio che questo come dire è è un pensiero no è una sensazione è una situazione che in qualche modo soprannaturalmente si avverte ma insomma che bella che è già nella consagrazione totus tuus alla madonna c'è c'è uno slogan tutto ciò che è mio è tuo e tutto ciò che è tuo è mio cioè avviene una fusione un interscambio tra il consagrato e la madonna cioè la madonna dona tutto quello che è suo veramente al consagrato e quello lo deve considerare come cosa sua e viceversa cioè in questi toni quando facciamo gli scambi tra il cielo e la terra succede che il cielo si prende tutto il nostro niente e la nostra zero d'accordo e noi ce ne prendiamo il nostro tutto è il suo non il nostro è il suo tutto cioè è proprio uno scambio dove lo signore è tanto buono lui ci guadagna proprio niente ci guadagniamo solo noi capito e Dio ci guadagna sapete cosa che fa contento il suo piccolo bambino adesso adesso poi lo vedremo che avete visto un papà che vede un bambino felice e contento per papà la gioia più grande che esiste non c'è altro guadagno per Dio non ci stanno altri guadagni d'accordo ci guadagniamo solo noi ecco ora mentre la mia mente si sperdeva in tante similitudini dicevo tra me sicché il vivere nella volontà di Dio è possedere la volontà di Dio e questo è un dono attenzione questo è un dono questo qui come si chiama questo ciclo di catechesi avete capito perché il dono della divina volontà cioè una roba del genere se Dio non l'avesse non volesse donarla ma non ci può passare manco per la pre-anticamera del cervello Gesù l'ha detto a Luisa cerca tutti gli iscritti di tutti i santi che troverai dei barlumi troverai degli input ma così come te l'ho fatto cercate di capire a te non lo trovi d'accordo né trovi l'idea né trovi tantomeno la cosa ancora più grossa che Dio vuole donarla questa idea capito a te allora però dice questo è un dono questo è un dono che c'è la volontà divina appartiene a Dio appartiene mica a me come faccio dice quindi se la bontà di Dio non si compiace di darlo ma che può fare la propria creatura e mi ha detto figlia mia è vero che il vivere nel mio volere è un dono ed è possedere il dono più grande su questo cioè ragazzi se qualcuno conosce qualcosa di più grande di questo alzi la mano ma nella chiesa cattolica si è sempre saputo che la cosa più grande che esista è vivere la santità quindi questo non è fare il prete non è essere vescovo ma può essere papa né essere suora frate perché la cosa importante certamente essere prete lo sappiamo è una dignità che supera gli angeli del cielo perché io posso offrire il sacrificio di Cristo non può fare manco la Madonna però un cattivo prete va all'inferno cioè su questo si ha ben chi anzi non solo che va all'inferno va all'inferno prima di un cattivo fedele quindi la cosa grossa della chiesa anche perché è il riverbero a livello soggettivo di una nota essenziale di essa che è la santità è la santità se qui si parla della santità delle santità cioè che ti assomiglia in qualche modo alla santità inarrivabile della Madonna in pezzona e alla santità della prima origine ma di che cosa vogliamo parlare cioè capito quindi ecco ecco perché attenzione che nella vita nella divina volontà io non voglio neanche sentire alcune cose non le voglio neanche sentire ogni tanto mi arrivano cose input il gruppo della divina volontà posizioni critiche verso la chiesa che è il gruppo della divina volontà posizioni critiche verso la chiesa non è un gruppo della divina volontà ma per quanto mi riguarda proprio non lo voglio manco sentire non è un gruppo della divina volontà punto non lo voglio manco sentire io parere mio personale soggettivo possono pensare quello che gli pare d'accordo non esiste proprio d'accordo non c'è proprio d'accordo come dice il mio amico Frappio e io sottoscrivo se tu vieni la divina volontà sei più devoto della Chiesa che di Gesù Cristo e della Madonna perché la Chiesa la vedi Gesù Cristo e la Madonna non li vedi d'accordo quindi non mi se venga a di manco mezza parola d'accordo perché è volontà cioè che la divina volontà sia salvare gli uomini nella Chiesa e per mezzo della Chiesa questo non ci piove e che l'unico Salvatore sia Gesù Cristo d'accordo Dio non forza nessuno ad entrare nella Chiesa moce ho scritto tanti articoli ho fatto tante catechesi ma che la Chiesa sia il luogo eletto d'accordo voluto da Dio perché chi desidera la salvezza e tutta la pienezza dei mezzi salvifici si trovi questo proprio non si discute d'accordo che quindi questa sia espressione fondamentale della divina volontà non si discute d'accordo non c'è proprio argomento di discussione non c'è d'accordo quindi chi discute questo qui già su questo non sta nella divina volontà punto d'accordo punto se fosse pure ridotta ai minimi termini la Chiesa Cattolica fosse proprio diventata una larva come dire un catapere semiagonizzante sempre lista la divina volontà punto d'accordo punto allora quindi ma questo dono che è il dono più grande quindi è la quintessenza della santità che è riverbero a livello a livello individuale delle singole persone della santità che è nota essenziale della Chiesa Cattolica insieme all'unità una santa cattolica ed apostolica d'accordo ci scriverò prossimamente degli articoli sul settimanale di Padre Pio sulle quattro note della Chiesa facciamo un po' consigli per gli acquisti ma questo dono che contiene valore infinito che è moneta che sorge ad ogni istante che è luce che mai si smorza tutte le metafore che ha appena fatto Luisa che è sole che mai tramonta questa è una delle metafore più belle del regno della divina volontà che mette l'anima al suo posto stabilito da Dio nell'ordine divino e quindi prende il suo posto di onore di sovranità nella creazione cosa disse Dio ad Adamo il creato è tutto per te tu sei il re del creato d'accordo è tutto tuo l'ho fatto tutto per te quindi questo dono che che cosa dice Gesù non si dà se non a chi è disposto 40 righe blu e rosse non si dà non te lo dà nostro signore non si danno le perle ai porci ha detto Gesù nel Vangelo non si danno le cose santi ai cani non si dà se non a chi è disposto adesso spiegherà che significa essere disposto a chi non deve farne sciupio a chi deve stimarlo ecco qua ed amarlo più che la vita propria anzi mostri di essere pronta a sacrificare la propria vita per fare che questo dono del mio volere abbia la supremazia su tutto e sia tenuto in conto più della stessa vita anzi la sua vita o nulla è confronto adesso ha capito cioè per questo ho detto dico allora o tu sei convinto credi non si dica obbligato o allora il regno della divina volontà è il regno della libertà d'accordo cioè la divina volontà è proprio cioè la libertà umana è la massima glorificazione della divina della divina già proprio in se stesso perché Dio è l'essere libero per Antonio Masi quindi però o tu hai ascoltato ci credi d'accordo ci sono molti buoni motivi perché Gesù ce l'ha lasciato cristallizzato nel padre nostro sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra quindi non è che ci ha dato le cose in codice certo poi ha spiegato a lui si dice io gli ho fatto chiedere questa cosa gli uomini capiscono una parte di questa cosa non gli ho sferato tutta quanta tutta insieme però so 2000 anni che la stiamo chiedendo d'accordo quindi questo dono è dato solo a chi ne fa altissima stima quindi come dice San Paolo nelle sue lettere dice una volta ho conosciuto Cristo io ho considerato tutto a spazio ho lasciato perdere tutto non mi importa niente di nessuno ed è niente di niente di nessuno perché tutte le mie energie erano polarizzate al fine di guadagnare Cristo quindi chi vuole entrare in questo regno deve fare di questo regno la ragione della sua esistenza deve essere pronto a sacrificare la vita amarlo più che la vita propria d'accordo e tenere in conto quello di più della vita stessa perché è di più che la vita stessa allora in soldoni diceva una volta un noto magistrato italiano in soldoni che dobbiamo fare ecco adesso non te lo spiega Gesù che dobbiamo fare allora che significa questo la prima cosa che vuole vedere qual è nostro signore ecco tutti i discorsi che stiamo facendo ecco perché voi sapete di coltre cari catechesi o quotidianamente pubblico una meditazione sulla divina volontà che comincia dal volume uno e nei primi dieci volumi non si parla ancora questo è il volume diciottesimo non si parla ancora chiaramente del dono della divina volontà non emerge diciamo questa peculiarità di questo dono che è emersa nelle cinquanta catechesi precedenti no lì c'è tracciato un percorso di santificazione che Gesù fa fare a Luisa come sua sposa e vittima perché nel primo volume si vede il matrimonio mistico e l'offerta di Luisa a Gesù come vittima che tra l'altro l'aveva chiesta già molti anni prima quando era piccolina d'accordo e cosa sta in questi volumi c'è sta scuola di santità ordinaria che hanno fatto i santi per diventare santi e questo lo dobbiamo pure noi ho detto tante volte quando abbiamo fatto le catechesi cosa non è la divina volontà questo non è un dice ah che bello i santi hanno dovuto soffrire tanto adesso io arrivo dico viene divina volontà nel mio dormire siamo diventati santi oee ma che dici sentite Gesù che dice qua perciò prima voglio vedere che l'anima vuol fare davvero la mia volontà e mai la sua questo Gesù lo vuole vedere non basta che tu lo dici a chiacchiere lo vuole vedere lo vuole vedere prendiamo il vangelo della messa di ieri avete inteso che fu detto occhio per occhio io vi dico di non opporvi al malvagio tu questo lo devi fare ah ma come faccio non opporvi al malvagio se uno mi parla male dietro che faccio gli devo parlare bene bravo se uno ti parla male dietro gli devi parlare bene questa è la volontà chiarissima di Gesù dall'altro ieri al vangelo precedente ci stanno già le omeliette delle messe poi fiorari postate online Gesù dice chi si arrabbia con il proprio fratello sarà sottoposto a giudizio quindi tu con il tuo fratello non ti devi arrabbia mai per nessun motivo eh ma come faccio e se non lo fai niente dono della tira volontà perché non stai facendo la volontà di Dio arrabbiarsi non è mai volontà di Dio non lo è insultare ancora chi poi gli dice stupido va al sineggio chi gli dice pazzo va alla genna quindi la prima cosa la volontà di Dio deve essere fatta sempre e mai la tua mai a quando c'è stata da esercitarsi no? anche nella nostra vita interpersonale tra marito e moglie facciamo siamo siamo pratici d'accordo c'è stata da fare una cosa io voglio una cosa e mi marito vuole un altro o viceversa chi è che cede per primo per amore della divina volontà per non imporre la propria volontà perché noi facciamo sempre la volontà di Dio ogni volta che non facciamo la nostra siamo proprio sicuri possiamo d'accordo che la mortifichiamo la nostra dobbiamo mettere già sotto i piedi chi è? dove stanno tutti quanti questi eroi? se questo non lo fai il dono te lo sogni sta dicendo Gesù non te lo fa poi adesso lo spiega perché quindi prima voglio vedere che l'animo vuole fare davvero la mia volontà e mai la sua pronta a qualunque sacrificio per fare la mia qualunque sacrificio materiale salute soldi i soldi i soldi tempo d'accordo interessi comodi piaceri qualunque sacrificio per fare la mia e in tutto ciò che fa è pronta a chiedermi sempre come in prestito il dono del mio volete si comincia esercizio no quindi cominciamo a fare la divina volontà e cominciamo in ogni atto che facciamo a chiedere in prestito la sua cioè vi ricordate le catechesi a chiederlo come principio dei miei atti vieni divina volontà nel mio fare questa catechesi nel mio ascoltarla nel mio interiorizzarla nel mio metterla in pratica d'accordo non per il predicatore ma per il contenuto predicato prosegue Gesù onde io quando vedo che l'anima nulla fa se non con l'impresso del mio volete capite l'ho detto questo in alcune catechesi quindi noi dobbiamo rimboccarci le maniche e fino a un certo punto Gesù guarda quello che facciamo con l'aiuto della grazia ordinaria la fai davvero sempre alla volontà di Dio ti sforzi di far cioè lo vedi subito tu capisci che una cosa Dio la vuole e un'altra non la vuole ma posso morire io faccio quello che Dio vuole basta ma se è volontà qualunque sacrificio qualunque sacrificio la bellissima canzone di Deborah Vezzani facciamo un altro consiglio sentitela si chiama Irri a costo di qualunque sacrificio io non ritorno indietro a costo di qualunque sacrificio ma diamogli proprio avete visto di Abramo Isacco cioè qua si tratta di sacrifici cioè ve l'ho detto in altre puntate no cioè se Dio ti chiedesse il dono di un figlio spariamo grosso ogni tanto cucete d'accordo dice figlio mio ho bisogno di questa grande offerta per salvare il sacco dei peccatori tu questo me lo daresti per dire siamo capaci noi di andare davanti a Gesù dice se Gesù è mio io voglio talmente fare tanto la tua volontà che anche le cose più belle che tu mi hai donato le più preziose per la mia vita se le vuoi prenditele tutte siamo capaci sta tranquillo che se il Signore non le vuole te le lascia non se le prende d'accordo ma tu devi essere questo questo è fondamentale questo qua fondamentale fondamentale quindi quando vedo attenzione a Gesù che l'anima non fa nulla se non con l'imprestino del mio volere lo do come dono quindi quando hai visto che tu lavori 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 e sforzi cerchi di riconoscere la divina volontà e fai discernimento sulle cose non agisci l'impulso cerchi di riconoscere Gesù presente negli eventi lavori sui difetti ricorreggi sui vizi cerchi di mortificare la tua volontà sei pronto al distacco e lo dimostri anche da qualunque cosa che ti possa in qualunque modo creare attaccamenti allora dopo quando meno te l'aspetti questa è la stessa identica legge vedete come questo si trova proprio nel cuore della vita della Chiesa questa è la stessa identica legge tale e quale identica che in mistica si dice che sia il cammino dell'unione con Dio basta hai scritto di Santa Teresa tu vuoi raggiungere l'unione con Dio anche su questa c'è qualcuno che desidera essere fidanzato a Gesù se è una femminuccia o fidanzato alla Madonna se è un maschietto c'è qualcuno che desidera celebrare il matrimonio mistico con Gesù se è una femminuccia o con la Madonna se è un maschietto guardate che io non sto scherzando lui sarà celebrato il matrimonio mistico con Gesù e non è mica la sola mica soltanto Elisa Piccarreta ha celebrato il matrimonio mistico con Gesù lo vorresti? ti interessa? guarda che è possibile se vuoi cioè è un dono divino ma quel dono divino non lo riceverà assolutamente nessuno che non abbia percorso avete visto la settima stanza? le sette timore? prima tu arrivi fino a dove puoi con tutte quante le tue forze che date dalla grazia comprese le purificazioni attive la notte dei sensi e dello spirito attive che lì li cascano tutti d'accordo? per l'anno si tratta la soffrì si voltano tutti indietro sono molti che vogliono andare con Gesù a quando entra a Gerusalemme con gli osanni e quasi nessuno vogliono andare già presso il venerdì santo capito? questo è scritto l'animitazione di Cristo li cascano tutti gli asimi ma se vuoi arrivare a quello tu devi innanzitutto poi da un certo punto in poi come spiega Santa Teresa cominciano i doni mistici ci pensa il Padre Eterno a fare il resto e te lo dà come dono tu non ne hai diritto perché avere le disposizioni non vuol dire avere nessun diritto ma vuol dire creare in te quelle condizioni che ti dispongano a ricevere eventualmente un dono che rimane gratuito e rimane una cosa immensamente più grande una cosa che nessuno in nessun modo potrebbe stritto senso meditare e rimane sempre un dono di Dio allora finisco il periodo onde io quando vedo che l'anima nulla fa se non con l'impressione del mio volere lo do come dono perché col chiederlo e richiederlo poi dobbiamo chiederlo adveniat regnum tuum fiat voluntas tua adveniat adveniat regnum tuum adveniat regnum marie continuazione tu devi desiderarlo deve essere l'oggetto della tua preghiera per te e per tutti il più pellegrinaggio è una divina volontà metto il mio ti amo perché venga il regno del fiat supremo per me per tizio per caio per sempronio cioè capite uno impazzisce non capisce più niente conosce solo questo d'accordo col chiederlo richiederlo ha formato il vuoto nell'anima sua dove mettere questo dono celeste e con l'essersi abituata a vivere ad imprestito di questo cibo divino quindi a fare la divina volontà e a fare tutti quanti gli esercizi che abbiamo imparato durante questo ciclo che ci immettono in questo mondo ha perduto il gusto del proprio volere il suo palato si è nobilitato e non si adatterà più ai cibi vivi del proprio io un'altra schia che uno sta entrando nella divina volontà è che le piccinerie proprio di cui gli uomini sono veramente stracolmi fino alla fine proprio le cose piccole veramente come dire senza giudicare nessuno perché si ha sempre una grande amore perché ti fanno compassione le persone che vivono nei labirinti dell'umana volontà in mezzo a tutte queste cose veramente da quattro sordi veramente ti fanno proprio cioè non ne vuoi mai cosa ti parlare c'è proprio la nausea cioè il palato si è nobilitato quindi quando sente puzza di volontà umana le cose piccole sta male d'accordo non ci dico ma io perché devo campare così d'accordo ecco quindi vedendosi in possesso di quel dono che le tanto sospirava e agognava ed amava vivrà della vita di quel dono lo amerà attenzione ne farà la stima che merita non si danno le perle ai porci cioè questo è il paradiso sulla terra non so se ci siamo capiti questo è l'Eden d'accordo ripeto un paradiso crocifisso quindi non è tutto quello che te pare però comunque questo è il paradiso sulla terra questo è il libro delle favole cioè non è che Dio lo dà così al primo che passa non ce lo dà d'accordo San Luigi Maria Monforte quando parla nel trattore della vera devozione ho detto tante volte del fare tutte le cose per mezzo di Maria con Maria per Maria e di Maria le prime tre le spiega abbastanza bene quando dice vivere in Maria dice io qua non te lo posso spiegare perché vivere in Maria vuol dire stare dentro il cuore della Madonna vuol dire fare la sua stessa vita e vuol dire conoscerla da altri dentro questa è una grazia che Dio fa solo a chi si dispone per riceverla a chi veramente è tanto progredito questo tu lo imparerai soltanto per esperienza cosa significa vivere in Maria San Luigi sicuramente lo viveva ma come tutte quante le persone che vivono su un altro mondo non trovano le parole per potertelo comunicare e anche se lo trovassero tu non lo capiresti se non lo vivi quindi lo amerai e ne farai la stima che merita non condanneresti dice Gesù tu un uomo che preso da affetto puerire verso un fanciullo solo perché gli stessi un poco intorno trastullandosi insieme sentite gli desse una carta da mille e il bambino non conoscendo il valore dopo pochi minuti gli fa mille pezzi cioè facciamo un esempio attuale cioè tu prendi firmi un assegno da un miliardo di euro un assegno circolare d'accordo coperto e quello da un bambino di quattro anni di tre anni quello via lo straccia oppure ci fa la barchetta o il missile e lo lancia in giro oppure se vede il fuoco acceso ti dice oh che bello fa mattizza il fuoco buttiamoci un po' di carta sopra un assegno di un miliardo di euro e qui c'è l'altro che assegno di un miliardo di euro allora non si dà un assegno di un miliardo di euro a un bambino si dà un assegno di un miliardo di euro a una persona adulta che si rende conto di quello che è grato per tutta la vita che poi lo vada a versare in banca sappia come investirlo insomma che ci faccia una vita da gran signore se no chi gliela la fa ma se invece prima lo fa desiderare poi ne fa conoscere il valore dopo il bene che egli può fare quella carta da mille poi gliela dà allora quel fanciuro non la farà a pezzi ma andrà a chiuderla sotto chiave apprezzando il dono e amando di più il donatore e tu lo terresti quell'uomo che ha avuto l'abilità di far conoscere il valore della moneta al piccolo fanciullo questo è il fine di questo ciclo di carichesi far conoscere il valore di questo dono quindi un assegno circolare firmato dalla Santissima Trinità col dono della Dina Volontà è a nostra disposizione se ci mettiamo in condizione di poterlo ricevere però prosegue Gesù se ciò fa l'uomo molto più io che do i miei doni con saggezza e con giustizia e con vero amore ecco perciò attenzione la necessità delle disposizioni e le abbiamo viste poi della conoscenza del dono della stima dell'apprezzamento e dell'amare lo stesso dono la conoscenza allora sapete che questo tema della conoscenza è un tema fondamentalissimo cioè perché la conoscenza l'abbiamo visto già tante volte nelle catechesi precedenti cioè tu non puoi amare ciò che non conosci questo è un principio tomista Sant'Ommaso su questo è un maestro e la Chiesa Cattolica ha molto diciamo così ha secondato a livello teologico spirituale e ascetico questo principio cioè noi possiamo volere ciò che conosciamo desideriamo ciò che conosciamo allora queste sono 52 catechesi noi abbiamo letto qualche scritto qua e là è chiaro che qua sono 36 volumi sono 36 e tanta roba cioè non si è cioè bisogna prendere dal primo volume al 36esimo e leggersi non solo leggersi di tutti d'accordo perché chi vuole veramente fare questa vita io questa scelta l'ho già fatta è evidente io sono un sacerdote quindi devo sempre tenere un orizzonte abbastanza aperto d'accordo non posso esclusivamente solo ecco come chi non ha responsabilità però è evidentissimo che questa è proprio la base assoluta della mia vita interiore cioè una scelta fatta d'accordo cioè io devo diventare santo da sacerdote d'accordo ma desidero farlo entrando nella divina volontà che se sarà possibile realizzerà in me il grande prodigio di fare un sacerdote santo e santo in questo modo quindi è chiaro che nella lettura spirituale e lo spazio primario ce l'hanno gli iscritti nella preghiera cioè non possono mancare le ore della passione la meditazione la faccio iscritti della divina volontà cioè faccio le stesse cose che non si trattano a fare cose strane perché poi il resto il rosario è sempre rosario la meditazione è sempre la meditazione cioè il breviario è sempre il breviario la messa è sempre la messa però in quelle cose che sono come dire le caratteristiche delle scelte spirituali che uno fa è chiaro che ho fatto delle scelte scelte che saranno vita naturale durante d'accordo vita naturale io non ho nessuna intenzione di smettere di recitare le ore della passione mai o il piego per l'eglinaggio dell'anima è una divina volontà o tutte le altre cose che uno ha imparato cioè capito a meno che io non mi impazzisco cioè non è una cosa che dura un mese faccio le 24 ore della passione e poi mi stanno no 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 non c'è non stiamo a capire è evidente magari potessi reagire tutti a 36 volumi tutto d'un fiato ho un tempo limitato che posso dire anche perché non con gli scritti non è possibile fare una lettura come te sia fa un romanzo perché delle volte tu te leggi uno scritto e rimani con due occhi così cioè a me è capitata tante volte cioè proprio rimani cioè dico oggi che succede io una mattina mi sveglio e dico oggi che succederà perché te vai leggere uno scritto nuovo e dici ma che altro è sta roba è che così quindi non è che ne puoi leggere 50-50 al capitolo al giorno non si può due tre ne puoi leggere al giorno non di più quindi ci vuole necessariamente il tempo e tra l'altro è mia ferma volontà che si fa una lettura e poi si farà la seconda la terza la quarta non so quanto tempo è stata campata su questa terra e però insieme a quella dal primo volume fino al 36 prima che ci arriviamo non so come ci arriverò sono diventato troppo vecchio io intendo anche meditarli gli scritti quindi non soltanto farci la lettura e quindi cominciare a ma poi ritornarci attraverso la meditazione perché cioè qua la meditazione adesso nei primi volumi la meditazione è abbastanza semplice quindi a volte ci stanno pure due tre capitoletti che sono molto brevi e lì stiamo ancora come dire ascetica classica quindi sono abbastanza pratico anche di certe cose no? e quando cominciare a meditare dal volume decimo in poi se andiamo avanti con questo ritmo tra un annetto a questa parte le meditazioni saranno diventate dal volume decimo in poi se ci arriviamo se Dio vuole ah non lo so quanto dura l'altra cioè non lo so proprio cioè capito perché lì cioè che te vuoi meditare hai visto questa cosa di oggi posso fare una piccola catechesima se no volessi farci la meditazione qui capirai se è fatta notte se è fatta con uno scritto del genere che ancora ci sarebbero un paio di paginette speriamo che riesca a leggere insomma proseguo la lettura perciò come foriera del dono che voglio fare alla creatura della mia volontà è la conoscenza di essa quindi gli scritti vanno letti tutti dal primo all'ultima sillaba e riletti perché non basta certamente una lettura sola la conoscenza prepara la via la conoscenza è come il contratto che voglio fare del dono che voglio fare il contratto e quanta più conoscenza invio all'anima tanto più viene stimolata a desiderare il dono quante volte abbiamo parlato del desiderio anche nelle meditazioni ma tu dire tante volte Dio vuole che sia sospirata questa cosa qua desiderata come tutte le sue grazie ha mandato il messia alla madonna dopo duemila anni di preghiere di suppi e daneri dell'antico testamento e quindici anni di atti divini fatti dalla madonna se no il messia non lo mandava capito perché insomma che arriva Dio fatto uomo a morire a soffrire la salvezza dell'umanità ma insomma questo è un dono abbastanza grande e ci deve essere qualcuno e ringraziamo Dio che la madonna per quindici anni ha fatto gli atti per tutto quanto l'universo se no il verbo incarnato stava ancora nel seno del padre se era mica incarnato però dopo sto proprio tranquilli d'accordo quindi il desiderio la conoscenza è il contratto che voglio fare e quanta più conoscenza invio tanto più viene stimolato a desiderare il dono e a sollecitare il divino scrittore di mettere l'ultima firma che il dono e solo possiede sapete che per fare un atto di donazione qui per donare l'avvocato Pompei che parla ci vuole un atto scritto e firmato d'accordo alla presenza pure di testimoni secondo il diritto civile ecco onde il segno che voglio fare questo dono del mio volere in questi tempi è la conoscenza di essi di esso quindi io dico sempre se tu sei entrato a contatto con gli scritti di Luisa ti può venire il legittimo sospetto che forse tu potresti essere il destinatario del dono poi se ti interessa bene se non ti interessa amen ma il sospetto ti può venire perché la conoscenza come abbiamo visto nella prima catechese è la prima cosa da cui parte l'input quindi si attenta a non farti sfuggire nulla di ciò che ti manifesto sulla mia volontà se vuoi io ci metta l'ultima firma del dono che sospiro di dare alle creature per completare leggo anche la seconda parte dello scritto che è diversamente edificante perché sia chiaro le disposizioni di questo discorso sulle disposizioni non viene dato questo dono se non a chi vi si dispone significa averne altissima stima essere pronto a fare qualunque cosa pur di averlo amarlo più della stessa vita e cominciare anzitutto a fare in tutto la divina volontà e a cominciare a prenderla in prestito a fare gli atti gli atti gli atti quanti più deve essere a fare meglio è farla e fare gli atti farla e fare gli atti poi arriverà il dono e noi faremo vita divina e felice sulla terra dopo ciò la mia povera mente si sperdeva nel volere supremo e facevo quanto più potevo di fare tutti i miei atti nella divina volontà mi sentivo investita di una luce suprema e i miei piccoli atti sentite che bello come uscivano da me prendevano posto in quella luce e si convertivano in luce e io non potevo vedere né il punto della luce in cui li avevo fatti né dove trovarli vedevo solo che si erano incorporati in quella luce interminabile e non più e a me riusciva impossibile poter navigare in tutta quella luce inaccessibile starmi dentro si ma varicarla tutta non era data la mia piccolezza in questo mentre il mio amabile Gesù si è mosso nel mio interno e mi ha detto attenzione capite che cosa sto dicendo atti che escono da Luisa fatti nella divina volontà prendono posto nella luce divina e si convertono in luce d'accordo e io non potevo vedere il punto della luce in cui li avevo fatti cioè si fondono con la luce di Dio ma capite cioè è pazzesco è bellissimo Gesù dice figlia mia com'è bello l'operato dell'anima nella mia volontà sentite il suo atto si unisce a quell'atto solo del suo creatore che non conosce successione di atti questa è la catechesi della settimana scorso se vi ricordate l'atto unico del Fiat Supremo quindi il suo atto si unisce a quell'atto solo del suo creatore che non conosce successione di atti perché la luce eterna non è divisibile e se si potesse dividere ciò che non può essere la parte divisa diventerebbe tenebre attenzione sinché l'atto divino essendo luce di tutto il suo operato forma un solo atto attenzione onde l'anima operando nella luce del mio volere attenzione attenzione cioè io cioè qui veramente c'è stata da impazzire questo è il libro delle favole questo qui l'anima operando nella luce del mio volere si unisce a quell'atto solo del suo creatore l'atto unico del Fiat Supremo e prende posto nell'ambito della luce dell'eternità perciò non puoi vederli cioè un atto che lui si aveva fatto non lo vede più perché si confonde con la luce divina né nella parte della luce dove li ha vatti né dove si trovano perché la luce eterna di Dio per la creatura è invalicabile da poterla varicare tutta ma sa di certo che il suo atto c'è in quella luce e prende posto nel passato nel presente e nel futuro ecco perché tante volte l'abbiamo detto i giri e il ti amo per noi e per tutte le creature presenti passate e future perché dentro questo atto unico il tempo non c'è più li abbraccia tutti noi andiamo girando dappertutto non abbiamo limiti né di tempo né di spazio come non ce li ha Dio quando entriamo nel fiat supremo quando ci fondiamo nel divino volere quando compiamo un atto nel divino volere vedi anche il sole essendo lui immagine della ombra della luce divina tiene in parte questa proprietà il sole questo è un esempio che tantissime volte li corroni di scritti è l'esempio che più si avvicina alla divina volontà supponi che tu operassi in quel punto dove il sole espande la sua luce solare tu vedi la sua luce avanti sopra e dietro di te a destra e a sinistra quindi se tu volessi vedere qual è stata la parte della luce del sole che tu ti circondava tu non la sapresti né trovare né distinguere sapresti dire solo che la sua luce è la sua luce era sopra di te ora quella luce stava fin dal primo istante che fu creato il sole sta e sarà se il tuo atto si potesse convertire in luce solare come si converte in luce divina ma tu potresti trovare la tua particella di luce e la luce che ti è stata data dal sole per farti operare ma certo che no ma sai però che da te è uscito un atto che si è incorporato nella luce del sole cioè per questo torniamo ad un esempio che ho fatto un po' che fa Gesù negli iscritti e che fece anche San Luigi Maria Monfort nel trattato della vera devozione pur non avendo ancora ricevuto queste cose però anche lì qualche cosa l'abbiamo visto che gli era arrivato d'accordo perché San Luigi avendo avuto questa grande unione con la Madonna la Madonna questa luce ce l'ha d'accordo la Madonna questa luce ce l'ha che cosa dice a San Luigi un punto d'ago fatto da Maria Santissima vale a più delle sofferenze di San Lorenzo sulla graticola ma questo è evidente questo qui capito c'è un punto d'ago è un'operazione come dire certo è esplicazione di un lavoro domestico faceva la Madonna quindi lavorare è esattamente un'azione nobilitante diciamo un passo della Madonna vale a più un passo della Madonna un passo cioè muovere il piede destro davanti al piede sinistro e poggiarlo per terra beata quella terra che ne ha potuto sentire il piede della Madonna detto fra me e voi no quanto valeva quel passo della Madonna valeva più quel passo della Madonna o l'estigma del Padre Pio vediamo chi sa rispondere a questa a questa domanda la domanda è retorica e non rispondo io quindi la risponderanno gli ascoltatori così si vedrà che si hanno capito cosa vale di più è un atto divino è un atto divino si confonde con la luce di Dio ma capite che bello che è una cosa del genere che ci vuole a fare questo qui che tu lo conosci e che tu lo voglia fare e più moltiplichi questi atti fatti nel divino volere più crei intere disposizioni perché quello in cui stai credendo in cui vuoi entrare con tutte le tue forze diventi dono di Dio e una volta che tu c'è il dono non lo possiamo sapere con certezza quando ci avremo io non lo so se Luisa ne era consapevole come ci si sente come si vive non lo so d'accordo ma di fatto quando la divina volontà diventa torniamo indietro da dove siamo partiti ci scherniamo di tutti il mondo il diavolo il diavolo salta al diavolo capito non ci può proprio venire vicino a me d'accordo non deve sparire se ne deve andare d'accordo se ne deve andare le mie passioni me stesso via pulite tutto via aria sto via conclude Gesù perciò dico che il vivere nel volere supremo è la cosa più grande attenzione è il vivere vita con la V maiuscola divina con la D maiuscola io chiamo la Madonna qualcuno storce la bocca la divina Maria perché la Madonna è divina perché la Madonna non ha fatto manco un atto di volontà umana manco uno ha cominciato con l'immacolata concezione subito ha preso la sua volontà legata ai piedi del trono di Dio io questa non la conosco e non l'ha mai conosciuta d'accordo quindi tu guardi la Madonna nella Madonna trovi di umano solo la natura umana creata le facoltà il corpo l'anima il cuore le mani i piedi la faccia gli occhi questo certamente è un ente creato ma il resto è finito d'accordo non c'è un atto suo che sia meramente umano non ce n'è manco uno ma allora questo è possibile anche a me Gesù dice di sì dico che il vivere nel volere supremo è la cosa più grande è il vivere vita divina il celeste creatore come vede l'anima nella sua volontà la prende fra le sue braccia e ponendola nel suo seno la fa operare con le sue stesse mani e con quella potenza di quel fiat con cui furono fatte tutte le cose cioè io cioè qua dico io ma chiunque ascolti dica io pensi io cioè un io impersonale no non è che dici io e gli altri no io tutti quelli che lo desiderano cioè io opero con la potenza del fiat con la F maiuscola cioè il fiat supremo con cui furono fatte tutte le cose cioè Dio basta volerla una cosa che l'ha già fatta cioè non c'è niente che può resistere a un solo atto di volontà divina zero zero ma voi capite anche cioè la pace la 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 serenità problemi problemi c'è una situazione brutta una cosa che ti fa preoccupare problemi 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 ma che Dio ha qualche problema nel risolvere qualche problema c'è qualche problema cioè se Dio un problema lo vuole risolvere seduta a stante il problema è risolto se non lo fa perché non lo vuole fare e se non lo vuole fare è perché c'è le sue buone motivazioni perché a volte i problemi è bene che ci stiano d'accordo perché vanno bene a chi li deve affrontare quindi concludo la lettura fa scendere sulla creatura tutti i suoi riflessi per darle la somiglianza del suo operato ecco perché l'operato della creatura diventa luce soli e si unisce a quell'atto solo del suo creatore e si costituisce gloria eterna e lode continua del suo creatore perciò si attenta e fa che il vivere nel mio volere sia per te il tuo tutto ecco il segreto affinché mai potessi scendere dalla tua origine cioè dal seno del tuo creatore appuntamento speriamo per un gran finale alla prossima settimana con la mia benedizione Ave Maria grazie a tutti grazie a tutti